Nel 1999 Calindri nasce a Certaldo, Certallo è la cittadina di Boccaccio, dove è nato e morto Boccaccio, ma oggi si può dire che è anche il luogo dove è nato Ernesto Calindri e dove riposa, perché poi il sindaco fece di tutto per riavere le sue spoglie. Ernesto Calindri è l'attore del Novecento italiano, ha fatto tanto teatro, era agli esordi della TV, era agli esordi del cinema italiano, per cui o in un film di De Sica o nelle prime pellicole che abbiamo visto in TV lui c'era, ma non ha mai smesso di calcare il teatro, il palco, perché pensate a 90 anni, poco prima di morire, era ancora sul palco a recitare. Certo, noi italiani lo ricordiamo per un'altra ragione, perché col suo tavolino si muoveva in una piazzetta italiana bevendo un cinar, ma in realtà ci aveva fatto capire che c'era molto alto dentro di lui, c'era la recitazione, c'era anche la capacità di entrare per primo nelle nostre case attraverso il carosello, che non era quella che oggi chiameremo pubblicità, ma che era pura arte, c'erano i primi grandi registi che si cimentavano con il carosello e c'erano i grandi attori. Calindri per cui resta nel teatro, pensate aveva madre e padre e sorella che facevano gli attori, ha sposato un'attrice e suo figlio ha fatto l'attore, insomma, per cui è una storia che deve davvero tanto alla drammaturgia italiana, ha recitato praticamente tutto e ha fatto anche l'insegnante alla scuola della filodrammatica di Milano. Per cui è importante ricordarsi, certo, quello spot che è entrato in tutte le nostre case, ma legare quell'immagine a quel volto di quell'uomo che aveva saputo portare il teatro, prima ancora del cinema della tv, nelle nostre case. Lei è nato il 5 febbraio del 1909 a Certaldo in Val d'Elsa, la patria del Boccaccio. Ecco, la sua famiglia però è sempre stata una famiglia di ingegneri ed architetti. Beh, ma la famiglia è perugina, il ceppo è proprio Umbro.